Alla Lidl, da giovedì 18 aprile. Bilancia caraffa graduata, pesatura di precisione al grammo fino a 5 kg, a 9,99€. Frullatore per smoothie, ricettario incluso, 250W di potenza, a 17,99€. Frullatore ad immersione 3 in 1, per frullare, passare e sminuzzare, 600W di potenza, a 19,99€. Tritatutto elettrico, con disco emulsionante per montare la panna incluso, adatto anche per tritare il ghiaccio, 260W di potenza, a 9,99€. Piastra di induzione, con 10 livelli di potenza e 8 programmi automatici, 2290W di potenza, a 39,99€. Friggitrice ad aria calda, 9 in 1, con vano interno da 10 litri e cestero girevole da 1,9 litri. Per friggere, grigliare, arrustire, cuocere al forno, gratinare, tostare e riscaldare, cuocere a fuoco lento ed essiccare con un solo apparecchio. Temperatura impostabile da 40 a 200 gradi centigradi, 1800W di potenza, a 99€. Affettatrice elettrica, per pane, carne, formaggio e verdura. Regolazione della larghezza di taglio fino a 20 mm, 120W di potenza, a 49€. Microonde, 19 litri, 700W di potenza, a 69€. Macchina sigilla sacchetti, con vaschetta di raccolta per liquidi estraibile e lavabile lavastoviglie. In dotazione e guarnizione di ricambio, rotolo di pellicola di 3 metri, 3 adattatori per valvola di depressione, 125W di potenza, a 24,99€. Pellicola per macchina sigilla sacchetti, a scelta tra due pezzi larghi 28 cm o tre pezzi larghi 20 cm, a 4,99€ la confezione. Bilancia digitale da cucina, disponibile in diverse colorazioni, a 7,99€. Scolatutto estensibile da lavello, in acciaio e con telaio rimovibile, in offerta a 3,99€. Taglieri da cucina, uno o tre pezzi, a 4,99€ la confezione. Padella, wok o casseruola, a 4,99€ la confezione e acquistando tre pezzi 9,98€. Coltello da cucina, a 2,99€ la confezione. Macina sale, pepe o dosatore per olio, aceto, a 4,99€ la confezione. Tazze, tazzine o bicchieri a doppia parete, 2 o 4 pezzi, a 8,99€ la confezione.